Tutto in pochi istanti alle dieci di sera e in una strada deserta in mezzo ai mucchi delle foglie rosse d'autunno una mano che non tremava tre colpi di pistola messi tutti a segno due tizi uno con un casco integrale da motociclista qualche urlaccio confuso la borsa la macchina la moglie presa a pugni buttata per terra testimoni zero e pochi credono adesso alla rapina siamo tutti un po eges di qualcosa parola libera dei media demoltiplicati in innumerevoli cellule individuali di emissione e quindi degli antimedia delle radio pirate ma c'è ma c'è hai ricevuto quando come e con chi è da chi e che cosa è di qualcosa di sinistro a presto a presto